buongiorno e buonasera a tutti siamo sempre noi zaga elementale con la z maiuscola e tutto attaccato siamo di nuovo con outlast dlc e con il terzo episodio sperando perché veramente ragazzi noi abbiamo un po la nausea abbiamo sinceramente veramente no non è che abbiamo nausea però insomma una certa dai un po no no vogliamo giocare due ragazzi abbiamo l'ansia di giocare due sì sì che tra l'altro dicono che sia anche molto bello quindi speriamo sì a me hanno detto che faceva cagare penso a te perfetto benissimo allora comunque niente chiacchiere e continuiamo allora io devo fare continua secondo te sì non è che me lo carica con l'altro outlast ma no ma se fai continua non ti dovrebbe dare la possibilità di scegliere no si è bloccato no vedremo 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 normale mi fa male una guancia bene 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 quando mastico mi fa male la mandibola però quando apro è normale vero vicino ma starei morendo mi fa male un dente cosa devo fare stacca un dente dove cazzo stiamo ok eravamo rimasti qua qua ma che è sto luogo non ho idea tra l'altro no no fermate un attimo poi possiamo parlare di ragazze oddio ma noi eravamo usciti dal bunker con le punk no si siamo schiantate da la si ok ok stavamo sui ok tipo assassin scritto ecco la porta non si può aprire visto che c'è sta fuoco davanti no fatti ha capito di visualizzata mamma mia sta luce eh no no non da qui segui la trave segui la trave segui la trave segui la trave oddio che ansia sarei mi ha messo la caga sotto girate perché non sto capendo dove cazzo devo andare pare sia l'intil ma no non è vero ok da qua non si vede nulla passa ok perfetto io non ho già messo invece solo sentire oh mio dio ragazzi qua qua mi sa che proprio rischiamo la pelle di grosso ammeasso che cazzo è quei schifo no io non masserei manco morta no ma rimani qua sotto ma quando viene non berò un cazzo manco io un tunnello di sedi ma dove devo andare dritto vedete qua a me sa che ci si inchiappettano proprio eh ma proprio a sangue si dove cazzo devo andare maronna mi che ansia no non penso qua no oh c'è una battaglia però c'è una pila capisco forse qua devi girare gira aspetta non girare dall'altra parte qui a destra non le fa troppo silenzio segui il percorso il percorso oddio guardate devi far in piedi ok oh a viuria vedi la sposa mamma mia oddio che è guardi o non spari non lo so andiamocene vai piano vai piano oddio raga la pila vai a prendere la pila eh no non li aspetta eh sta lì mi sa qui a terra deve sta la pila no a terra quelle sono i cosi eh è a terra eccola gira lo sguardo verso destra perché ho visto qualcosa verso destra aspetta che sta a scaricare no no non è una pila perché se no era florescente vado serie dai no cazzo dove cazzo da onda i building bottiglie guardate forse non si vede ah oddio è imputato meno male che è morto oddio raga oddio oddio noi stiamo probabilmente andando in bocca in bocca a questa gente io voglio voglio rimanere qua non fare colpo non fare dei sospiri strani che me me fai ahhh oh hey hi oh no veramente cattivo dove è sparito scusate e di qua è andato è stato che cazzo oh come ho immaginato ah è scappato di là è scappato ok vediamo se ci stanno i pile mai eh mi raccomando troppe pile fa ma uh pilla gaffo che hai fatto guarda abbiamo sempre trovate i pile e ne te lamentavo no ma si in effetti stanno giù oh no oh no oh no oddio oddio raga dove devo andare oh qua ecco oddio raga e ora oddio di dio dio oh aspetta c'è no api l'api 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 aspetta mi sono incartato aspetta vai verso la luce leva la luce ah meglio stanno andando in bocca eh per forza mi sa che la via però perché le vie del signore sono infinite vai con la poma ah ok abbiamo sorpassato il tubo cazzo raga eh si stanno andando in bocca qua stavamo addosso raga qua stavamo addosso oddio raga aspetta non è che devi salire ancora di più no perché abbiamo un'intruzione no 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 non è qui non è qui merda merda secca no 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 raga oddio raga io ho paura devo correre cazzo ma perché la merda vai diamo che sono se sentono ma tanto ci hanno sentito dove cazzo devo andare ma che mindi ne so ma sto andando bene aspetta una porta gira te una porta gira ah no è quella di prima ah si allora stiamo andando bene forse qui 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 sali qua fragile dove no 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 si sta andando a botta aiuto oddio no dove devo andare aia aia cazzo ma è tutto un piccolo cieco eccolo fai salta salta si però mi sa questo va cazzo non vedo una ceppa qua salta è dritto non lo so non lo so salta oddio che ansia oddio e ora no oddio questo me me la chiappa qua e qua hai scale hai scale vai scale asciugni dai scale aaaah va che al buio che questi non usano l'energia non so che cosa l'energia solare cazzo eh l'energia solare non bello anche male oddio oh cazzo aspetta no no vai vicino vai vicino no raga la donna sta partorendo no raga no dai fammi vedere fammi vedere ma non mi sai vedere l'abbiamo visto voglio capire scena non sto capendo bene che cos'è che devi vedere lei è senza testa e lui vabbè vai troppo piano fammi degustare questi momenti oddio 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 raga ansia vai piano vai piano me ne voglio andare ragiona cosa devo ragionare ritorna in te dove cazzo stiamo c'è un buco nel muro vai ragazzi troppo silenzio va nel void quando c'è troppo è un po' più buio comunque la prossima volta mi raccomando eh raga quelli sono il coso de mi nonna che gli serve per cucire vai cazzo oh no come quell'arta qui c'è una porta paro più dietro oddio mi sono cagata cazzo raga e ora e ora sono cazzi e ora sono cazzi veri cazzo non è buono che rispuntavo oddio raga no questo c'è anche a pedda ragazze oddio raga io devo andare devo scappare femminile non lo so devo scappare dove devo andare dove devo andare eccolo lui da me ma no ma donna è cazzottone no dai dai che palle oddio noi siamo uomini mi conosce perché mi ha chiamato donna come fa sapere che siamo i miei ragazzi come possibili si parava pure al plurale non lo so però diciamo ci siamo incartati la dove siamo ma qui l'abbiamo fatto io non guardo no ok l'abbiamo fatto ragazzo allora vai verso la luce eccolo aspetta ma quando vede però aspetta no perché qui no no vado oddio raga oddio no se non me me vede qua si me vede oddio potresti rendere completo oddio raga io scusate ma non sto leggendo perché io devo vedere qua se te stai a cagamano o altro eh te credo ma che c'è tanti dolci ok ok vecchie buio vai piano vai di là no ma ha visto corri no non t'ha visto qui qui ecco la porta sì qui no qui non lo so qui no che cazzo è gira 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 era un vestito da sposta leva sta cosa che non vedo un cazzo vai dritta no 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 vai stai che questo ultimo è arrivato qua qua no oddio oddio raga non potete capire non potete capire che ansia non potete capire non vedo non vedo manco io un cazzo ecco vado di qua cazzo è sta roba non lo so serena oh no siamo tornati di qua no cazzo no no dilla dilla qui salta da letta c'è una porta no raga raga oddio arriva 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 dai 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 no cazzo qui qui aaa mamma mia aia sai che dolori ai piedi oddio raga oddio raga oddio oh i piedi oddio dolore si è rotto oddio o no stai ben oh dimmi che stai ben ruffo Sì, vabbè, a quest'ora sai com'è ferito? Odio petto l'osso e non camminavi mai più. A te stessa? Ma io non so... Come vuole? Ah, entra qua. E finisci di morire per stare con me? Oddio. Ma sì, guarda. Oddio, mamma mia, raga. Grazie, almeno ci ha lasciato liberi. Sì, quel cazzo. Guarda, sopra ci sta un po' solo dove puoi salire. Eh, no, perché zoppichiamo. Siamo fatte male. No, aspetta. Direi un cazzo di bastoni nel sullo tra un po'. No, raga, qua ci crepiamo, raga. Non è che c'è stata lì? Eh, penso di sì, lo sento parlare. Però non riesco a correre, cioè, corre fino alla certa. Ci lasciavamo lì. Raga, io non so se sto andando bene. Non so se sto andando male, infatti. Aspetta. Oddio! Nooo! Raga, finisci! Ah, è fino all'armadietta. Dov'è l'armadietta? L'armadietta, vai. Allora, io devo cambiare le pile, scusate, raga. Ma mia cosa che buco in urli! Ah no, aspettate! Non posso cambiare le pile, quindi è progettato. Oddio, raga, era programmata che noi... no! Ma che belli occhi che hai, tesoro! Pappa mia! Pensa che c'è chi si tatua veramente così. Mamma mia, pensa a gente come sta. Quindi ragazzi, andavamo poco lontano, quindi penso. Ma ora la domanda è, se noi invece non ci nascondevamo... Muorevamo? Eh no, muori finché non entri. No, finché non sei stronzo e capisci. Eh, infatti, non lo so. Quindi ora dovremmo sapere. Ma noi non siamo donne. Cioè, almeno il personaggio, in realtà. Siamo ok. Siamo ok. ma io, un legato. Per essere il padre che mai avevo mai avuto. Non mi vero cosa succedere a tutti i nostri figli. Non come noi. Sì, io non posso procreare con te. Vuoi capire? Non come? Non c'è prati, comunque, esso. E qui è finisce, vedete che non è legge. No, ha detto non come. ah e vabbè neanche riusciamo a scappare ragazzi qua proprio c'è addormento ragazzi se non ci moriamo qui guarda 12 ore dopo ragazzi siamo brandelli ah no no siamo ancora qua dentro oddio ma che non aveva la bocca o era cucita oddio ragazzi che schifo ho i brividi schifo ragazzi che schifo che schiaffa fai schiaffa guarda quella la cifra oh mio dio è monco domino libero cosa gli ha tagliato? non l'ho beccato che sta facendo? non lo so io ho visto il coltellino metterlo nel fedelino però non non saprei sinceramente perché non era il fedelo ah ah hai visto come ah perché fa come con quello dietro gli taglia diciamo il coso per farlo diventare una femmina e poi lo ricuce perché quell'altro ce l'aveva ricucito oddio ragazzi che schifo che schifo che schifo si gradevoli peri raga e questi in realtà sono i desideri sessuali di gelanda no che rapa mia mamma mia mai ma no vabbè che schifo mi sento male io l'ho un po' sbrotto un po' fome che schifo sei brutta l'ho scoperto dopo oddio ragazzi ragazzi almeno non soffre più adesso guarda oddio ragazzi io non voglio vedere almeno non soffre più raga no no atroce tocca a noi bello c'era ancora vivo quello era ancora vivo quello no io una cosa del genere tanto che non mi ha infilato un tubo nel culo quindi vediamo pure il nostro membro ora lo vedi che non sono una donna no no sì dopo scapperemo nudi o scappiamo o moriamo qui insomma no mi sape qua che dobbiamo infatti io lo so che hai dei gusti un po' particolari ma comunque è proprio un po' eh io qui dai io lì ah quindi c'è vabbè 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 ragazzi qua no 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 oddio ah aspetta mi posso muovere c'è qualcosa eh no non mi fa niente oddio raga oddio io non so se non so se moriamo per colpa mia perché deve fare qualcosa ma io oddio oddio meno male che cazzo è questo uno che ci voleva aiutare o che ce l'aveva con noi oddio lascia stare la telecamera ti prego lascia la penne bravo prestiti almeno oddio ah quindi stiamo con un camice col culottino no no raga cazzo mi sa qua sbagliato strano raga qua ci troviamo tra l'altro stiamo tipo no ha vinto lui vai piano andato qua ok e vattene un po' oh no oddio oddio raga lancia lancia ok vado vai via non so se te devi buttare in sabine no no oddio no raga mi ha visto no niente quale è stato qui qui no no por cazzo dove devo andare non vedo nulla non vedo dove devo andare qua no raga cazzo qua 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 una porta porta dove posto dove posto non so non so non vedo una ceppa che so mi rimetti cose sulla porta vai buttati mamma mia moriamo oddio vabbè questo c'è là con il mondo no tra l'altro stiamo tipo morendo se adesso becchiamo qualcun altro siamo fottuti alla grande tra l'altro non abbiamo più batteria perfetto siamo nella merda più totale oddio raga oddio dove devo andare qui exit si salvataggio mi fa ti serve una trova una pila si una pila eccolo chiamata grande la chiamata oh yeah sta batteria ragazzi la useremo come l'ultimo l'ultima dose per un tossico quindi sempre no molto eh qua raga metà che incontriamo di nuovo il nostro amante qua un buco un buco è pieno di buco salve salve salvino ma ve le ce l'hanno proprio un filato di prepotenza oddio riprendi un po' va oddio raga che cazzo è oh abbiamo ripreso attenzione ragazzi aspettate un attimo che abbiamo tra l'altro abbiamo 3000 note che noi non ci siamo proprio filati perdonateci ok ok potete benissimo leggervelo da solo tanto vi abbiamo fatto vedere tutto tutte le cose che abbiamo preso ok aspetta ho anche i documenti mi sa si se ve lo volete leggere insomma ora non c'è anche se non ve lo leggete non è che la storia sia tanto difficile ecco da capire raga quindi eh boh guarda quella roba là non lo so mi sono incartata con ah uno scappello beh vorrei vedere che ti sei incartata quando hai fili che ci sono per terra ah questo è un po' superfari luce ah questa è una palestra ora ho capito ops no raga io veramente raga ma questo Auschwitz levati proprio porca miseria ma che ci vogliono anni per fare una cosa così tutto appeso con questi fili così mamma che scherzo ma anni ballo levati vado di qua non me sa no me sa che ovviamente ovviamente niente è proprio allora qua vado ma questo ha detto ci lasciava un paio ma basta che stiamo andando in bocca no oh santo il vino si oddio oh no oh no oh che è chiave oh si 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 eh 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 muoio scema non ci so qua non ci passa no oddio oddio serena oddio ma per qua non ci passa dall'alto no no quello sfonda sfonda dai apri dove devo andare dove devo andare oddio ansia ansia no di là di là di là di là di là oddio oddio dove 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 cazzo piccolo cieco cazzo niente raga siamo morti qua aspetta aspetta ancora siamo morti quello pure è lento si si lento no cazzo raga aia madonna che pezzi ragazzi mamma mia che cazzotto un buco c'è dato comunque allora non entriamo dentro la stanza perché non è la via è inutile non è la via non è la via allora aspetta lì c'è una porta no no è una porta no no oddio no dobbiamo andare di qua ne so se è l'unica via là non c'è la porta c'è la libreria è una libreria di merda dai apri ok qua non ci vedo ah di qua ah di qua oh eccolo bastardo no 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 cazzo sbagliato vabbè è meglio è meglio dai raga aiuta non lo so devo andare di là aspetta no qua qua no qua no 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 ma che caos e dai muoviti però no cazzo però non si muove eh namo e dai eh cioè io capisco che sei zoppo però muo esageriamo oh rifacciamo per l'ennesima volta sto pezzo grazie namo su 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 ma no non te lento sei un pega picco o giro un pega picco al palento eh grazie su metteresti una gamba rosa ma io ce l'è morta mi ce l'è ammazzata manco che troveresti no è dritta è dritta è dritta è dritta è dritta che cazzo devo andare allora ma che cazzo ne so alla porta lo giù in fondo lo devo so vedendo ah lì sì 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 ah oddio corri ti prego ti prego forest corri no no raga no ma che cazzo ma che ne so ah l'uscita ah sì 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 bravo bravo l'uscita ma dov'è l'uscita è qui dovrebbe stare l'uscita qui no 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 ah qua qui dai raga dai no 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 dai via e quindi oddio raga oh 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 oltre piano con ste mani però ecco qua raga se siamo visti se siamo visti raga se siamo voluti bene se vediamo nel prossimo video oh quanto sei simpatico seppure è un sacco buio uccidere di più beh seppure eh sì perché l'ha detto pure alla mi c'è ma avete perdito tutti tra l'altro stiamo fofocando ragazzi così mamma mia mamma mia se è me agito se è me agito che è successo ah ha fatto il peso lui aspetta dove sta oddio raga quindi non vedo più nulla quindi noi siamo giù e lui è su ahhh te sta bene te sta proprio bene te sta bene e ti registro pure bitch allora andiamo scappiamo magari non tutto il sangue aspettate che abbiamo un nuovo vedo un poraccio mamma mia allora basta ok io ragazzi non non sperimenterei più niente me ne andrei proprio oddio che ho fatto di qua non di qua è dritto qui no massimo ci troviamo una pila qua una pila che no non c'è niente ok andiamoci noi ragazzi scusate la cosa mi sono fermata andiamo 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 via 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 la gambe proprio gambe e gambe via anzi una gamba non ce l'è più a gambe no infatti ok andiamo ah il bagno dei maschi ti ricordi? che è stato tra l'altro nel primo un incubo cosa? addirittura ragazzi addirittura il salvatazzo il caricamento maronna mi chiedeva a fuoco anticristo? è stato lui? ok che è? che cosa era? raga chi era? era un fizio che stava controllando con una torcia ah i medici aiutati il dottore il dottore no scusa ma se questo è prima come ha fatto lui a scappare? no ah quelli all'inizio che noi vediamo uno che era impalato tu lo ricordi? ah e lui dice non è il dottore questo? sono uno di quei no si però quello impalato era uno di questi ah ah è vero si 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 vabbè non indaghiamo io me ne vorrei neanche oh dio qui sotto raga ma che c'abbiamo nemici adesso i puliziotti no eh no non mi devo alzare le mani tipo aiutami no si te lo ricordi nel primo che abbiamo fatto così e siamo morti morti pure loro mamma mia salta no no non salta raga il nome è Modered salta salta morta ok ok sembra la via giusta la via che c'è la calvitica un po' per la eh infatti ah questa stanza la ricordavo si la ricordavo molto bene ragazzi la ricordiamo molto male è chiusa vi prego vi prego che non succeda nient'altro vi prego pietà dove cazzo devo andare io qua qua devi scendere giù qui ma è chiusa è chiuso qua vieni giù non ho messi io era da qua per uscire giù e andare ah brava ottima ottimo ottimo senso ecco la verta scappa stronzo morici bitch addio no e cazzo pure la cortellata sulla panza no no pure sto stronzo no oh grazie 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 billy grazie fantastica ma perché a noi tela mamma oddio raga un po' questa cosa me la ricordo nel primo c'era un'ombra ovunque ma perché a noi non ci ammazza boh billy cioè caritatevole qualcuno dai in realtà tra l'altro il primo ci ha ammazzato cioè neanche billy ci ha ammazzato ci hanno fucilato così proprio con oscialanza io non guardo niente e me ne vado così aiuto aiuto aiutatemi ti prego certo comunque ragazzi io direi che adesso non so se moriamo però nel senso siamo usciti dal siamo usciti dal siamo riusciti a evadere a evadere per il momento da questa cosa con una coltellata sulla panza e distrutta una gamba oh guarda è la macchina di quello di quello la del primo lo ricordi no non può essere un può essere qua è chiuso non è il suo no non è il suo va la macchina entra dentro si si è la sua guarda è la sua che minchia è questa è Billy è Billy bene Billy noi ce ne andiamo battene battene oddio no sei inceppato no raga vai bravo vai battene prima che Billy per Billy vai bravo 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 un applauso che è stato più sveglio e più fortunato del primo grazie è riuscito a scappare perché noi nel primo avevamo trovato usco sfondato aspetta ma sta su Facebook ma che dobbiamo decidere spero di no ti prego fa lo tu da solo ti prego ah beh non abbiamo altre altre opzioni immagino no ti fa muovere si è così mi fa muovere poi basta raga tanto tanto che giro tanto che giro bene ragazzi abbiamo finito anche autos dlc vorrei notare un attimo una cosa allora intanto il questo personaggio del dlc mi sembra più più intelligente del primo cioè il primo veramente abbastanza scemo diciamo tra l'altro mi è dispiaciuto tanto per il primo perché siamo stati fucilati così come capitava mentre su questo diciamo mi è piaciuto magari un po' di più anche i nemici abbiamo visto meno zio frank diciamo sai cosa mi piace più di questo capitolo il fatto che è stato corto ma intenso brava esatto troppo lento poi c'è alcune cose era lento e lungo si 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 troppo questo sia più intenso però più corto si infatti io forse tra i due preferisco il dlc assolutamente frank tu che dici si si per adesso per adesso il dlc faremo anche outlast 2 che quello lo stiamo aspettando insomma con ansia anche noi e noi ricordiamo che vi seguite sempre sulla nostra pagina instagram e di mettere tanti like sul nostro canale spero che questa serie vi sia piaciuta scriveteci sotto nei commenti se vi è piaciuta questa serie o se volete dirci qualche cosa va bene andate a casa state a casa e non fate niente ciò volete dire non fa niente spero che vi sia piaciuta questa nuova serie la prossima serie che noi porteremo sul canale sarà remote red quindi preparatevi su un'altra serie horror che il primo episodio già è stato visto è già è stato pubblicato sul nostro canale lo potete trovare lì il primo episodio lo troverete presto sul nostro canale e tutto il resto gli episodi e dopo faremo Outlast 2 e quindi nel senso mi raccomando ragazzi seguitici sempre e ci vediamo nel prossimo episodio con il nostro prossimo serie di come si può dire serie di giochi ecco sì non mi veniva non mi veniva no non mi veniva stasera ciao ragazzi ciao ciao ciao